...nei miasmi dell'inspiramento. Alla fine, quando non resterà spazio, questo mondo morirà tanto l'arco. E i vegli avrori del cuore chiuderanno la sua barra. Ma non è detto che questo sia il tuo futuro, Gotham. Esiste una via migliore. Sono... dappertutto. Uno sguardo su un futuro basato su una scoperta stupacente. Grazie alla quale Gotham risorgerà come Lattaro, diventando una luce di speranza. E nel buco di... ...di o furiositi... ...invicinato... ...guardoate il tuo futuro di Gotham City. Oh! E il cuore di tutto... ...è una musica di toga. C'è la tecnologia all'arco. ma soprattutto il nostro bel mondo sopravviva signore e signori permettetemi di presentarvi il futuro il segnale del tracciatore continua oltre questa porta ma sembra che non venga aperta da decenni forse gli assassini usano un altro ingresso devono essere i famosi guardiani meccanici di Wonder City i loro meccanismi erano molto avanzati rilevo una specie di nastro di memoria quasi una sorta di videoregistrazione forse posso acquisirlo e analizzarlo la azione i dati sono incompleti è una tecnologia molto avanzata rispetto a quella dell'epoca sembra che i dati siano immagazzinati in una memoria condivisa forse la potrò recuperare le informazioni degli altri guardiani grazie a tutti Sì, sì. Sì, sì. 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 Questo passo è questione di minuti. Davvero, Bruce, devi dirmi cosa vuoi che faccia. Cosa deve fare Robin? Sai, se non... Ce la farò. Avresti dovuto darmi ascolto. Nessuno dei tuoi amici ti salverà qua giù. Basta! Salve, Talia. Come ci hai trovati? Ho riconosciuto la tua guardia del corpo. È bastato soltanto... Seguirla. Mi hai ingannata, perdono. Sparisci. Con te farò i conti dopo. Non c'era bisogno di farti arrestare per venire a trovarmi, Bruce. Dopo quella notte insieme a Metropolis. Bastava che mi chiamassi. Non sono qui per te. Dov'è Raj? Se è di nuovo morto, ho bisogno che lo risvegli. Solo un vero successore può presentarsi al cospetto di Raj al Ghul. Mio padre ha sempre pensato che noi due insieme avremmo guidato il suo esercito. Prova a immaginarlo. Tu, io, un mondo migliore. Il tuo viso! Che è successo? Sono qui per prendere posto al tuo fianco. Vuoi diventare un assassino? Perché dovrai fidarmi di questa conversione? Hai visto il mio viso? Ti sembra forse che abbia scelta? Sei pronto ad affrontare le prove del demone? Devi dimostrare di essere pronto a uccidere per salvare il mondo. Sono pronto. Che comincino dunque le prove. Migliaia di guerrieri sono caduti alla ricerca del demone. I successori mancati si sono dimostrati nulla più che bambini di fronte all'immensità del creato. Ho visto di peggio. Niente può prepararti a ciò che ti attende. Il destino deciderà la tua sorte. Non fallirò. Ho udito queste parole cento volte. Spero che tu abbia ragione. Il tuo viaggio inizia da questa porta. E cominciamo. Sei sicuro, Bruce? Soltanto un uomo ha superato questa prova. Vuoi convincermi a non farlo? Certo che no, solo. Voglio solo esserne certa. Quando il sangue del demone farà effetto, sarai completamente solo. Come sempre. Che gli spiriti ti siano benevoli. Benvenuto, detective. Sono il grande Rajal Kul. Davanti a te hai le pieghe del demone. Bevi solo bene dal calice. È molto semplice. Grazie. 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 Grazie.